Come promesso le telecamere di R e TM si sono remesse in movimento e oggi ci troviamo come le immagini vi fanno vedere sul ponte della circomballazione verso Porta Romana a Croce di Tolignano e vi facciamo vedere dopo svariati servizi che finalmente qualcosa si è mosso. Le balaustre sono state rimesse parzialmente a nuovo quindi non sono state cambiate, sono state sistemate quelle che c'erano, come potete vedere non sono state cambiate, il cemento è quello vecchio, i pali sono quelli vecchi, hanno rimesso a posto i tubi che mancavano, quelli che erano rotti e hanno ripitturato bianco e nero come il colore dell'asco di bianco nero. Ma questo era quello che noi dicevamo nei nostri servizi, l'abbiamo detto penso dieci volte, bastava solo rimettere qualche tubo che mancava e dare una parziale verniciata e questo è stato fatto. Allora io mi domando, ma come me lo domando io se lo domandano anche in molti altri, noi abbiamo avuto il ponte più schifoso d'Italia per 20 anni, perché quella schifezza che voi state vedendo adesso dalle immagini come era prima, qui c'è stato 20 anni così, con la plastichetta rossa, con i cubi di cemento, abbandonato a se stesso. Adesso come possiamo notare abbiamo ridato un po' di decoro all'ingresso verso il quartiere più popoloso di Ascoli, il quartiere di Mondicelli, verso l'ospedale, verso lo stadio, chiamiamolo stadio. Chi viene ad Ascoli, che esce dalla superstrada, che va verso lo stadio, passa su una cosa decente, perché questa è una cosa decente. Hanno rifatto anche gli scarichi dell'acqua, adesso ve lo facciamo vedere. Guardate, diciamo che è stato fatto un bel lavoro, così l'acqua invece di andare lungo la strada, lungo la carreggiata, va sotto dove dovrebbe andare normalmente. Ma per fare questo, ripeto, è possibile che ci volevano 20 anni, perché sono passati 20 anni. Per fare questo, sai quando ci hanno messo? 5 giorni. L'ho controllato io personalmente. 5 giorni per fare questo, 3 persone, non è che è venuta una squadra di 400 persone, 3 persone erano, 4 con il furgone, un furgone e 3 persone, hanno fatto questo. Una saldatrice, 4 punti di saldatura, 10 kg di vernice, perché tanto è, perché da quello che vedo 10 kg di vernice. Però gliel'abbiamo data, una passatella gliel'abbiamo data. Quindi, 4 saldature, 4 tubetti nuovi, 20 anni. Ci siamo fatti prendere in giro, per non dire un'altra cosa, oggi voglio essere un po' più soft. Ci siamo fatti prendere per i fondelli, da tutti quelli che sono passati qui sopra. E come vedete dalle immagini, qui ci passa tanta gente. Tutti quelli che passavano qua, ci hanno preso per i fondelli, perché penso che avranno speso qualche migliaio di Euro, 3 persone e una saldatrice, 10 kg di vernice, non ci vuole un matematico per fare i conti di quanto è costato fare questo. Il comune, la provincia, perché qui dovrebbe essere provinciale se non sbaglio, dovrebbe essere provinciale, anche la Topalox è provinciale. Lì abbiamo, a 200 metri, abbiamo il Bancomat della provincia che ingassa soldi a palate tutti i giorni. Vi ricordate il nostro servizio che abbiamo fatto, Bancomat? Lì adesso sta ingassando. Come passano le macchine? Prec, prec, ingassa. E allora, visto che ingassate, spendete qualche soldo, no? 10 multe e abbiamo fatto questo, perché tanto abbiamo speso, eh? 8 e croce, 10 multe e abbiamo sistemato il ponte. Si poteva fare anche prima. No, abbiamo aspettato 20 anni. 20 anni e 4 servizi di RTM. Questo è il quinto, però il quinto diciamo che siamo soddisfatti, parzialmente soddisfatti. Adesso Gino rifà una panoramica e vi fa rivedere tutto il ponte, bello sistemato. Quindi, da Bernardino Comandini e da Gino Renato Fratini, soddisfatti del lavoro ottenuto, il risultato. Il risultato c'è. Quindi andiamo avanti con i nostri servizi, perché possiamo dichiarare, oggi lo dichiariamo, che dovunque siamo andati noi, poco dopo, l'intervento è stato fatto. Non ci vogliamo prendere tutti i meriti, sarebbe troppo bello. Ci prendiamo una parte di merito, una parte. Che questa cosa forse è stata fatta anche grazie ai nostri servizi. Forse. Siamo là così. Da Mondicelli, Croce di Tolignano, il ponte della vergogna. Per oggi, da Bernardino Comandini e da Gino Renato Fratini è tutto. Grazie a tutti.